Welcome to the Culinary Fighter Podcast with your host, Phil Logreco. He'll be talking to world-class boxers, promoters, trainers, managers and of course the fans. The fans have a voice and it needs to be heard. Here on the Culinary Fighter Podcast. Signori e signori, come vi ho promesso, Culinary Fighter anche in italiano. Questa puntata la farò in italiano con un amico mio. Abbiamo un ospite che conosco da anni, Leonard Bundo. Ha fatto dei grandissimi match in America, ha combattuto con Keith Thurman, Earl Spence. Era il Bernard Hopkins italiano, lo chiamavo io. Adesso diamoci una telefonata, vediamo come sta e vediamo come sono le cose in Italia con il pugilato. Here we go. Pronto? Yes brother, Mr. Bundo, come va? Bene, bene, dai, finalmente. Stai a mangiare ancora? Bistecchi fiorentini, che fai? Adesso non mi fai il peso, no? Ora non faccio il peso, però devo stare attento perché prima mi allenavo e quindi bruciavo. Ora invece non brucio, brucio meno e ingrasso di più. Ebbè, io sono 88 kg di dinamita pura. Ah, buca miseria, 88 kg è tanta roba. Però anch'io, sai, sono lì vicino. Comunque ogni tanto mi alleno, se no si lievita, bisogna allenarsi. Ebbè, io ti chiamavo il Bernard Hopkins italiano dell'Italia. Hai fatto tre grandi match in America. A 41 anni sei arrivato a quei livelli, non è da tutti, dai, da nessuno. No, devo dire che mi sono mantenuto bene. Dai, io ho sempre la fortuna anche di aver avuto un maestro, mi ha saputo guidare bene, un stile di vita abbastanza salutare, abbastanza, non troppo, però. E quindi poi mi sono sempre allenato, quindi niente, dai. È solo una questione di mentalità, la tua vera età. Sì, ho capito, ho capito, mio amico. Allora, dimmi una cosa, il pugilato in Italia, com'è adesso? Pugilato in Italia, com'è adesso? Ma è sempre così e così. Ora, con questa nuova collaborazione con Matchroom e la OPI, sembra che piano piano stanno organizzando riunioni meglio. Però la situazione in Italia non è proprio un granché. Ma perché? Continua, continua. Sì, sì, no, io penso che manca, mancava sin dai tempi magari di Parisi, che mancava un personaggio abbastanza bravo, forte, carismatico, che poteva interessare anche la gente, la televisione, la televisione era numero uno, una cosa che fa diventare popolare, una cosa no, una cosa che diventa popolare o no, insomma. E siccome manca, manca quello, è arrivata la mentalità di dilettantismo. Il dilettantismo nel senso che uno rimaneva dilettante, e poi magari chi rimaneva dilettante? Magari chi aveva un lavoro sicuro, che aveva un stipendio, bravo, le forze dell'ordine, le fiamme oro e fiamme ciale, tutte queste cose qui. Quindi sono rimasti i migliori talenti, sono rimasti sempre nell'ambito dei dilettanti, no? Non c'è mai stato il ricambio, i professionisti, chi passava professionista, non poteva fare solo il professionista per il lavoro, ma doveva andare a lavorare dalle otto di mattina, anche prima, fino alle cinque di sera, può andare in palestra, quindi non era una professione vera, cioè doveva fare... Ebbè, in America come pensi che fanno? Fanno pure così, lavorano anche, non è che passi professionista, già ti fanno un bel contratto di un milione di dollari, devi fare la scala. Ma magari lì c'è, vedi che il pucilato è visto sotto altri occhi, mentre qua il pucilato è visto ancora con un po' di freno, dici il pucilato, uno sport violento, fanno solo i delinquenti, cose varie, e quindi la mentalità ancora non è cambiata molto, e quindi la gente ci si avvicina meno. Ci sono palestre molto piene, però alla fine, come ti dicevo, se non c'è il ricambio, se i migliori rimangono sempre dilettanti, poi i dilettanti quando senti parlare di pucilato, di pucilato dilettantismo, solo quando ci sono le Olimpiadi, vincono le Olimpiadi, tutti belli, è fantastico, è una cosa bella, però poi dopo non si sente più pallare. Mentre nel professorismo, se uno continua, si riesce sempre a avere qualche richiamo, qualche cosa di maggiore interesse, indipendentemente dall'evento importante o no. Quindi penso quello sia uno dei problemi dell'Italia. quindi le cose devono cambiare in Italia. Le cose devono cambiare per andare avanti in Italia. Certo, devono cambiare in questo senso, sì, devono andare avanti, c'è bisogno di ricambio, anche in America, il dilettantismo è importante, sono grandi campioni che hanno avuto diversi match, hanno vinto diversi titoli, alcuni medagliati, però una volta medagliati c'è il campo, passano al professionista, perché è l'evoluzione del pucilato. Dopo il dilettantismo, uno passa, passa e poi da lì uno sognare, uno deve sognare grande. Io me stesso sono colpevole di questo fatto, perché io sono passato professionista da 31 anni. Eri vecchio. Non posso, non sono... Ma sei fatto grandi match, hai fatto grandi, grandi match. Sì, ho fatto grandi match, perché poi dopo, diciamo, mi sono svegliato tardi, ho detto vabbè, ora ho fatto fucilata, sin da quando ero bambino, e quindi ora che faccio? Devo fare meglio quello che so fare, cioè fucilata. Quindi mi sono dedicato, sono passato professionista, ho cercato di far per bene, con il supporto di tutta la mia famiglia, moglie, parenti, figli, tutti quanti, quindi sono arrivato fino a dove sono potuto arrivare, però magari se mi fossi svegliato un po' prima, sarebbe stato meglio. Comunque vabbè, non rinlego niente, sono contento così. Hai fatto grandi esperienze, guarda, non è facile, non è da tutti questa cosa, anzi, ti ammiro troppo, tanto per quello che hai fatto. Parlando di bugilato, di lettantismo, secondo me è una cosa troppo valutata in Italia, con i CT che sempre parlavano delle Olimpiadi, non capiscono questo mondo qui, com'è. a me mi prendevano per scemo, mi ricordò, lascia il militare, lascia il militare, va a fare il professionismo, si, perché c'è il discorso del lavoro sicuro, chiaramente che è una cosa veramente, con la crisi e tutto, uno dice, qualche anno, se ho un lavoro certo, stipendio certo, chi me lo fa fare è andare a rischiare, però chiaramente è una questione di crederci, di crederci, cercare di trovare alternative, sognare, non è tanto bisogna sognare. un grande applauso a Guido Vianello, lui ha lasciato tutto, ha filmato con Top Rank, è a Las Vegas, io abitavo a Las Vegas tre anni, ci sentiamo spesso, a volentieri, abbiamo fatto un'intervista, ho fatto un'intervista con lui, sia in inglese, e sia in italiano, ci vuoi dare una mano, anche con il pubblico americano, lui sì che ha visto l'opportunità, sta portando il pugilato italiano sulle spalle, penso io, perché è un peso massimo, è alto, è giovane, e quindi se lui avrà grande successo, tutti i pugili italiani vorrebbero fare come ha fatto lui. Sì, lui ha fatto benissimo, ha preso il rischio, è andato via, può essere il pioniere del movimento, del pugilato italiano, nel senso che uno deve andare, e se veramente ci crede, deve andare dove è più fertile la situazione, quindi in America penso sia il posto adatto, chiaramente non è facile, non tutti possono prendere, andare, lasciare, non è così facile, magari lui c'era l'opportunità di farlo, e la possibilità l'ha fatto, però sì, uno dovrebbe fare questo, in alternativa qua in Italia, magari si potrebbe fare un po' più match, che richiama un po' di interesse, che ne so, incontri fra gli imbattuti, dei due pesi, due personaggi della stessa categoria, che imbattuti, che invece di combattere contro solo mestilanti, di sfidarsi, di cercare di trovare un interesse, quello potrebbe essere una cosa, una cosa che richiama l'attenzione, come quando io e Daniele Petrucci abbiamo combattuto a Roma, eravamo entrambi imbattuti, chiaramente c'era in palio la posta dell'Europeo, quindi eravamo entrambi motivati, però c'è stato un grande richiamo, era forte Petrucci, era forte Petrucci, mi sembra che c'era anche nel periodo, anche quando c'eravamo insieme in nazionale in Italia, qualche volta è venuto anche lui, abbiamo combattuto anche in nazionale, forte, forte, ah ci ha combattuto contro? quando ho fatto, quando ho vinto io, il campionale italiani, sì, grazie a te perché te ne sei andato, perché non so se ti battevo, però, eri forte, io ero giovane, ero pieno, vedi io ancora non avevo capito ancora cosa dovevo fare, quindi ero un po' saturo, e non rendevo nemmeno più di tanto, più, nel dilettantismo, e quindi ero un po', è arrivato, c'avevo bisogno di qualcosa di nuovo, ma secondo me se tu eri in America già, come avevi fatto io, avevo, che avevi 21, 22 anni, facevi una strada diversa, eh, può darsi, però sai cosa, devo ammettere che non avevo la testa, io faccio il pucilato, perché mi riusciva, ero, mi riusciva naturale, però non è che, avevo mai puntato, di far, di diventare, voglio diventare campione del mondo, come, una volta, c'è questo episodio, mi ricordo, si era stato nazionale, quando Cammarelli era, era ancora, uno junior, io ero senior, uno dei, 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 dei veterani della nazionale, e si correva insieme, e lui mi diceva, ma sai, io, io, io diventare campione del mondo, lo sai, e io, e io lo guardavo, mi diceva, invia la cammina, andiamo, non si parla la stupidaggine, però lui, io, io l'ho preso in giro, però lui c'è già la mentalità, vincente, quello che, che manca, a tanti, no, Cammarelli ha sempre avuto, Cammarelli ha avuto sempre la mentalità da campione, molto, quello, questo è quello, è quello, è quello che ci vuole, a me è venuto un po' troppo da, era deciso, sapeva quello che voleva, e quello che non voleva, lui sapeva che il pugilato professionismo, non era per lui, per i suoi motivi personali, perché, si sa, si sa se andrà avanti o no, dal professionismo, e lui era, è intelligente a capire, e ha capito che, forse non è una cosa per me, però il dell'attentismo, con le score machine, ha fatto tanto successo, non ho box che più si diceva, poi lui era un po', c'era un po' di acciacchi, i propri fisici, quindi non so se, anche quelli hanno influenzato, comunque, è un grande campione, è stato, un grandissimo, e quindi, ha fatto proprio bene, questa è la mia visualizzazione, per l'Italia, mi mandano sempre tutti messaggi, mi mandano, scusa per l'italiano, un bel po' che non parlo, anzi, mi scioggo la lingua un pochettino, perché, ha un bel po' che non parlo in italiano, proprio perfetto, però, la mia visualizzazione, sei perfetto, altro che, la mia visualizzazione, su pugilato italiano, io ho sempre detto che, il talento, c'è, ma è mal gestito, e la mia, io che farei, se fosse, se fosse, uno della CT, che vorrebbe, il pugilato professionismo, andare avanti, fai venire, due, tre, quattro, allenatori, messicani, portali in Italia, due, tre americani, non russi, non cubani, messicani, Sì, sì, anche quello è vero, perché magari, insomma, il pugilato, diciamo, messicano, o anche americano, in generale, è quello che più, magari, attira, è quello che dà più spettacolo, noi siamo più, a livello, di scherma, ci piace più fare, la box, non vedo un pugile italiano, a parte te, che tu, tardi, nella tua carriera, stavi dando, coppie a fegato, non danno, non fanno segni, sì, uno deve lavorare sotto, infatti, ora che ho smesso, e faccio, diciamo, l'allenatore, part time, cerco sempre di dirgli, vada, lavorate sotto, specialmente, chi è professionista, deve lavorare sotto, round round, ripresa per ripresa, vedrai che, quello cala, un colpo dopo l'altro, si abbatte l'albero. e per, quindi, il pugile, italiano, nel professionismo, qual è, qualcuno, che adesso, sta facendo strada, qual, qual pugile, quale, come si dice, qual pugile, chi è, chi è il prossimo, chi è il prossimo, allora, chi è il prossimo, ora qui, a Firenze, c'è, Fabio Turchi, che, l'ho sentito, questo fa male, questo fa male, l'ho sentito dire, questo fa male. Sì, sì, lui, lui è, è bravo, talentuoso, è stato anche lui, parecchio, dilettante nazionale, però è passato, c'è una bella box, anche per, per la categoria, si muove bene, tecnico, e fa male, deve anche lui, fare il passo, di affrontare, magari, gente, un po' più di qualità, però ultimamente ha avuto un po' di sfortuna, perché non per colpa sua, ma c'è stato qualche, un infortunio con gli avversari, quindi l'ha un po' rallentato, spero che, che possa presto, ehm, prendere, ehm, qualche sfida un po' più impegnativa, poi, c'è, e quello che alleno io, Mohamed Obadi, che è un ragazzo, un peso mosca, però è, è poco conosciuto, però è veramente bravo, anche lui è stato, è pro, altri pugni italiani ospiti, quindi se sei un pugile professionista, e vuoi essere su Colony Fire, mandami un messaggio su Instagram, o magari, facci, farlo sapere Leonard, ci mettiamo, lo mettiamo in contatto. è un tantatici che, che Phil, almeno, è uno che sta promuovendo, veramente, sta facendo una grande cosa, sta promuovendo la box, la box in Italia, la box nel mondo, e te sei stato uno dei, dei più significativi rappresentati, rappresentanti italiani, nel mondo professionistico mondiale, compilati ancora. e la dobbiamo. Sì, pugili come, come me, ce ne sono, diversi, ti faccio una domanda, chi controlla il pugilato italiano ancora, il Facinelli? E' lui quello che comanda? Facinelli, sì, è uno dei, adesso io vorrei, io vorrei fare una telefonata, darci qualche visione, nel pugilato, nel pugilato, professionismo, perché ci sono cose che, secondo me, loro non capiscono, eh, del dilettante, tanto di cappello, ha fatto tante cose, però, le notizie, non le fa, non lo fa il dilettante, lo fa il professionismo. E' quello che dico anch'io, sì, certo, quello che dicevo prima anch'io, che magari, nel dilettante, si parla quando c'è l'Olimpia, queste cose, però poi dopo, non è stato, non c'è stato, tanto interesse, nei professionisti. E lui, devono, ragazzi, se state ascoltando, per favore, prendete, due, tre, quattro, cinque, sei, facchi di allenatori messicani, due, tre, quattro, allenatori americani, so che, un'altra cosa che ho notato in Italia, non, non ci sono cut men, ah, sì, c'è, poco e niente. c'è uno che lavora anche con noi, che, 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 che collabora a sto team, è, Federico, Katizione, che, è uno che fa, un professionista, dei cut men, poi, poi, magari, è nuovo ancora, in, 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 quindi, è uno di, 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 veramente bravo. Quindi ragazzi, se, siete interessati a pugilato italiano, fate girare questo video, farò più spesso Connery Fighter. Leonard, thank you so much for being on the show, and will do it again very very soon. Ok, dai, grazie a te, è stato veramente un dolore, e, spero di, di rivederci presto. Grazie, grazie. Ciao, 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 ciao,